Il messaggio che lancerò è sicuramente un messaggio di speranza, di pace attraverso la musica, che l'arte è un grande mezzo per sponsorizzare e portare la pace a tutto il mondo. Che cosa ci canterai stasera? Credo che farò senza i miei, però questo è il mio segreto, i pezzi li faccio sempre live, freestyle, nel senso che vado a ciò che mi ispira il pubblico, lo comunico al DJ e facciamo i pezzi in base al pubblico. Ci annunci qualche nuovo progetto artistico? Stiamo lavorando per nuove cose e non sono solo singoli.